Venerdì 25 settembre nel nostro telegiornale sono andate in onda le immagini della chiesa di San Marco di Campo San Piero utilizzate in modo inappropriato in un servizio in cui si raccontava la vicenda di cronaca di un sacerdote del Campo San Pierese finito nel mirino di una donna che lo ricattava per estorcergli denaro. Vicenda che nulla a che vedere con la parrocchia mostrata nel nostro servizio. Per questo vogliamo precisare che le immagini utilizzate sono di repertorio e che non rappresentavano certamente i reali protagonisti della vicenda. Il parroco della chiesa di San Marco, Don Bruno Bevilacqua, è strana alla vicenda e ci vogliamo scusare con lui.